Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video qui sul canale Ragazzi, forse il giorno dopo fa ancora più male Sampo Juventus 0-0, passiamo quindi all'analisi post-gara Analizziamo questa seconda gara in stagione per i bianconiri Una Juventus che non riesce a sfondare il muro Doriano 0-0 a Marassi, campo difficile, campo ostico Squadra molto ben organizzata, quella messa in campo da Giampaolo Però la Juventus ha conti fatti per il terzo anno consecutivo Non è a punteggio pieno dove le prime due partite in stagione Quindi c'è qualcosa che non va, c'è sicuramente qualcosa che non va E la Juventus quindi non riesce a fare gol, non riesce a produrre occasioni da gol Perché quelle che la Juventus ha creato contano sulle dire di una mano Una Juventus che è sembrata veramente in ritardo clamoroso Da un punto di vista atletico, un ritardo da un punto di vista fisico È una Juventus che ha costruito veramente troppo poco per impensurire questa Sampdoria Ma ragazzi, è vero che abbiamo l'alibi del mercato È vero che abbiamo l'alibi dei tanti giocatori out Però gli undici messi in campo da Massimiliano Allegri bastavano, bastavano per battere questa Sampdoria Squadra ben organizzata ma che ha veramente tolto magari Sabiri e Caputo e Quagliarella Che grazie alla loro grande esperienza riescono comunque ad essere attaccanti imprevedibili Però ragazzi, tolti questi giocatori qui sono veramente poca, poca roba La Juventus ha anche rischiato perché in avvio pronti via Clamorosa l'occasione da rete per la Sampdoria Leri davanti alla porta di Perin Prende il portiere della Juventus in pieno Che è stato reattivo quanto volete Ma secondo me è quasi più un gol mangiato Quello dall'attaccante francese Rispetto alla grandezza comunque dell'intervento del portiere della Juventus Fatto sta che fa un grandissimo intervento Comunque vada, comunque si voglia vedere Mattia Perin la palla scheggia la traversa E quindi veramente bastava poco per crollare subito fin dai primi minuti Quindi una Juventus che è sembrata veramente lenta e impacciata Tanti passaggi in orizzontale Da Danilo si andava a Bremer Da Bremer si andava a Rugani Da Rugani si andava ad Alexandro E così ritornando, rifacendo di nuovo il giro da capo Si giocava veramente tanto con i difensori Rugani e Bremer hanno toccato 50 possessi nel primo tempo Vlaovic 3 possessi Di cui uno è il calcio d'inizio L'altro è il clamoroso quasi autogol Che stava appunto procurando alla Juventus Sempre nei primi minuti, nella prima parte del primo tempo E un altro, un tocco di palla Nella nostra metà campo dove poi ha giocato la palla all'indietro Per vedere un tocco di palla di Vlaovic Un tocco di palla di Vlaovic Nella metà campo d'Oriana Abbiamo dovuto aspettare il cinquantesimo minuto Quindi dati clamorosi Vlaovic arriverà a toccare solo nove possessi Al termine della partita Troppo poco, veramente Ma non è troppo poco, è veramente zero Veramente zero per la punta di diamante Quello che dovrebbe essere l'arrivo di ogni azione d'attacco della Juventus Quindi veramente numeri sconcertanti Ma sconcertanti sono anche i numeri del nostro regista Locatelli che ha toccato 17 volte il pallone 17 volte il pallone Quindi 17 possessi per Locatelli Che dovrebbe essere il nostro metronomo Il nostro regista Colui che dà velocità alla manovra della Juventus Quindi anche da questo punto di vista Altra prestazione imbarazzante Ma non andiamo subito sulle prestazioni Perché mi sto già dilungando Parliamo del risultato L'Inter ha vinto Il Milan ha pareggiato Ma in uno scontro diretto Su un campo complicatissimo Come quello di Bergamo La Roma ha vinto Il Napoli ha vinto Ha stravinto E quindi la Juventus deve già rincorrere La Juventus deve già rincorrere Ecco perché era vitale Vitale portare a casa i tre punti Contro la Sampdoria Una Juventus che doveva vincere Per lanciare subito un messaggio Comunque ai rivali All'Inter Ragazzi guarda che ci siamo anche noi Al Milan Guardate che dovete recuperare Perché è vero che avete pareggiato a Bergamo Ma siete due punti sotto a noi Quindi attenzione Un messaggio anche alla Roma Juventus Roma di sabato alle sei È uno scontro diretto Quindi la Juventus Poteva subito Fare la voce grossa Dire Roma Siamo a pari punti Invece la Juventus deve già rincorrere E non oso immaginare Non oso immaginare Se la Juventus dovesse perdere Lo scontro diretto all'Allian Stadium Contro proprio la Roma Saremmo veramente già A dover fare le maratone Per poter inseguire i nostri avversari E ripeto Un concetto che forse non ho espresso abbastanza Nei miei video sulla Juventus Ma Le altre si sono rafforzate Veramente tanto E le altre vanno veloce Inter Roma Napoli Milan Sono tutte squadre Che vanno veloce Corrono Perché hanno tantissima qualità Si sono rafforzate Veramente tanto E quindi È difficile andare a recuperare punti Su queste squadre Quindi non puoi Non puoi andare a Marassi E concedere No Questo pareggio Alla Sampdoria E perdere due punti In questa maniera Ripeto Un primo tempo Dove la Juventus Non ha giocato La Sampdoria Ha costruito Ha sempre avuto in mano Il pallino del gioco Ha sempre dominato Sotto certi aspetti Anche se Di occasioni vere e proprie Non ne ha create Però La Sampdoria è sempre stata La protagonista Del gioco Una cosa che invece La Juventus Non ha mai fatto La Juventus Non ha mai impensierito Nel primo tempo La porta di Audero Tranne per un'occasione Che c'è letteralmente Piombata dal cielo Errore di Augello Quadrato Furbissimo Bravissimo Recupera il pallone Si invola Verso la porta Ed è stato anche bravo Ad attirare a sé La pressione La pressione della difesa Doriana Quindi liberando A centro area Vlaovic E anche Kostic Che era arrivato Con i tempi giusti E Quadrato Anziché mettere Questa palla dentro In mezzo Per Vlaovic Che avrebbe Concluso A porta quasi Sguarnita Va praticamente A concludere In faccia Ad Audero Sciubando Un'occasione Veramente Grossolana Clamorosa Ma ripeto Tolta quell'occasione Lì La Juventus Ha costruito Veramente poco Niente Benino Kostic Che in un paio di volte Un paio di sgroppate Ha messo dei palloni Al centro Interessanti In uno di questi È andato Rabiot A colpire di destro Ma veramente Poca roba Per impensierire Un portiere Molto bravo Come Audero E quindi la Juventus Che si è trascinata Lentamente Anche nel secondo tempo Perché è vero Quello che ha detto Allegra L'abbia fatto Leggermente meglio Nel secondo tempo Ma solo perché La pressione Doriana È calata E quindi Chiaramente La Juventus Ha avuto Leggermente Più Spazi davanti Ha provato A costruire Qualcosina Vlaovic Per due volte È andato a calciare Verso la porta Finalmente Vlaovic Ha calciato Verso la porta Ma mai in maniera Pericolosa Abbiamo avuto L'occasione Meravigliosa Del gol annullato Dove Miretti Appena entrato Ha praticamente Peso a schiaffi Il centrocampo Della Juventus E ha fatto vedere Come si gioca A calcio In un ruolo Di mezzala Specialmente Se devi fare La mezzala Alla Juventus Recupera il pallone Con cattiveria Sulle risse E quindi Si va subito A buttare in avanti Taglio di Vlaovic E quindi Molto bravo Miretti A mettere questa palla Per Dusan Vlaovic Vlaovic Bravissimo A fermarsi A servire Rabiot A centro aria Completamente solo E Rabiot La mette dentro Peccato per il gol annullato Perché Veramente In quell'azione lì Aveva Costruito Una bella trama Di gioco Ma ovviamente Tutto parte Dai piedi Di questo ragazzo Miretti Pressione alta Cosa che non ha fatto Nessuno Palla in verticale Un filtrante Meraviglioso Per il taglio di Vlaovic Cosa che non ha fatto Nessuno E poi Vlaovic Bravissimo A servire Rabiot Inserimento A centro aria Del francese Cosa che poi Non ha mai fatto Più nessuno E poi La rete Che può essere annullata Per un fuorigioco Nettissimo E poi Dobbiamo constatare Un'altra occasione Per la Juventus Molto bravo Ken In una sgroppata Sull'esterno Gran bel cross Al centro Per Kostic Kostic è arrivato Di sinistro A impattare Sul cross Di Ken Audero Smanaccia E riesce A non far Capitolare La Sampdoria Molto bene Anche Rovella Quando è entrato Andrò subito A concludere Verso lo specchio Della porta E quindi ragazzi Cosa possiamo dire Sotto l'aspetto Del risultato Chiaramente Un passo indietro Rispetto alla gara Con il Sassuolo Ma ovviamente Si tratta anche Di un'occasione Persa Due punti Veramente Persi Sotto l'aspetto Del gioco Chiaramente Ho anche Già menzionato Prima Veramente Poco Nulla Ce ne facciamo Ben poco Di un possesso Palla Comunque Alla pari Della Sampdoria Perché la Sampdoria Ha fatto tanto Possesso Nella nostra Metà campo Noi abbiamo fatto Tanto possesso Nella nostra Metà campo Quindi non abbiamo Mai creato Lì davanti E tolte Ripeto Queste occasioni Che ho menzionato Quella di Quadrato Nel primo tempo Quella del gol Annullato di Rabiot E quella di Kostic Nel finale La Juventus Non ha praticamente Più calciato Verso lo specchio Della porta Quindi Veramente Male 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 Una Juventus Che Se sotto l'aspetto Del risultato Fa un passo indietro Rispetto alla gara Col Sassuolo Sotto l'aspetto Del gioco Fa tre passi indietro Rispetto alla gara Col Sassuolo E mi viene già Da purgere una domanda Ma non è che siamo Già diventati Di Maria dipendenti No Perché Di Maria A questo punto È stata Un'assenza Clamorosa Quella contro La Sampdoria Anche se è dubito Che potesse appunto Creare qualcosa Se addirittura Vlavic Tocca nove palloni Io non oso pensare Quanti palloni Avrebbe toccato Di Maria Una decina Una quindicina Ma cosa poteva mai fare Di Maria Seppur Seppur Resta comunque Un giocatore Clamoroso Sotto questo aspetto Quindi Non lo so Cosa avrebbe potuto Creare di più Ripeto Sotto l'aspetto Della prestazione Veramente poca roba Si salvano Perin Che ha salvato Nel primo tempo Una parata Che poi A conti fatti È stata decisiva Si salva Miretti Che è entrato Nel secondo tempo Ed è stato Secondo me Il migliore in campo Della Juventus Si salva Rovella Che è entrato Per cinque minuti Ma ha fatto vedere A Locatelli Come si gioca Davanti alla difesa Ma non è neanche colpo Di Locatelli È colpo del nostro mister Che continua a mettere Locatelli In quella posizione E forse Si salva Kostic Kostic Che ha fatto buone cose Buoni traversoni Buone cose Quando appunto Gli è arrivato il pallone Ma ragazzi Più di quello Non poteva fare Cosa poteva fare Di più Il nostro Filip Kostic Già quello che ha fatto Secondo me È stato rilevante Vuol dire che Veramente È un ragazzo Interessante Su cui vale la pena Puntare E lavorare Perché è un ragazzo Che secondo me Ha un ottimo Un ottimo piede Ha messo due Delle cross Interessantissimi Mal sfruttati Dal nostro Dal nostro Reparto offensivo Che non si tratta Ovviamente Solo di Vlaovic E poi ragazzi Dei noti dolenti Alexandro Solita prestazione Indegna Rugani E Bremer Molto ma molto male Molto ma molto male Io non capisco Perché non puntare Su Gatti Che secondo me Vale in quello Che abbiamo visto Nel precampionato Due volte Questo Rugani Bremer Molto impacciato Molto lento Si vede Che comunque A sinistra Ha delle enormi Difficoltà Ci sta In un percorso Comunque Di crescita Allega Ha deciso Di mettere Bremer Costantemente A sinistra Quindi deve Specializzarsi E quindi Nello specializzarsi Ci sta Che effettivamente Vada in confusione Però veramente Quanti Quanti Palloni persi Quanti svarioni Difensivi Quante volte Col pallone Tra i piedi Ha fatto perdere Un tempo di gioco Non hanno mai Rugani e Bremer Cercato il nostro Regista Chiunque Questo sia O Locatelli O Rovella Dopo Perché comunque Locatelli Si è fatto vedere Veramente ben poco Rovella è stato Veramente poco servito E passiamo A Danilo Terzino destro Danilo ha fatto cose Il meno peggio Della linea difensiva Ma non è che ha fatto cose Sfavillanti Ha sofferto anche lui Lì in quella posizione Sabiri Gli ha creato Tanti grattacapi Quindi Poi davanti Il nullo assoluto Ovviamente Però Leggerissimamente meglio Rispetto agli altri tre Ma stiamo veramente Parlando di poca poca roba Se gli altri tre Sono da 5 Lui da 5 e mezzo Quindi veramente Non è che stiamo parlando Di chissà quale prestazione Locatelli Malissimo Il peggiore Lì al centrocampo Insieme a McKennie Insieme a McKennie Perché entrambi Sono stati veramente Due ectoplasmi McKennie Non ne parliamo proprio Ha toccato veramente Una pochezza assoluta Come mezzala Avrà toccato Se non una decina Di palloni Veramente Male Male Un fantasma Letteralmente Locatelli Che è il regista Ripeto 17 possessi Nel primo tempo Ma di cosa stiamo parlando Dovessi essere il metronomo Quello che fa girare la squadra Dovessi farti vedere Molto di più Dai nostri centrali di difesa Perché Rovella scende Fra i due centrali E tu non lo fai mai Non è la tua posizione Dillo chiaramente Se non è la tua posizione Dillo Fallo capire Mister Questo non è il mio ruolo Non posso garantire Più di questo In quella posizione Quindi veramente Rabiot Paradossalmente Paradossalmente Rabiot Che secondo me È uno scandalo Mettere in campo Rabiot Dopo tutto quello che è stato No Con lo United Mettere in campo Rabiot Era uno scandalo Ma paradossalmente È stato il meno peggio Del nostro centrocampo Ovviamente senza contare Coloro che sono entrati dopo Che hanno asfaltato Tutti al centrocampo Però Il meno peggio Del nostro centrocampo È stato Rabiot È vero Ha fatto gol Gol annullato Ma ha recuperato palloni Ha gestito Sempre alla sua maniera Tanti possessi però E quindi Veramente È uno scandalo È uno scandalo Vedere come Rabiot Sia paradossalmente Il meno peggio Del nostro centrocampo Kosic È il meno peggio Lì davanti È stato bravo Comunque ha toccato Pochi palloni Ma quei pochi Che ha toccato Sono comunque Sempre stati Palloni pericolosi Alla retroguardia Doriana Vlaovic Mi viene quasi Da dire senza voto Perché Ci ha messo Tanta voglia Tanta grinta Ma mal servito Poco servito È quell'unico pallone Che ha gestito Veramente Come se fosse Un possesso Come si deve Ha fatto praticamente Assist a Rabiot Quindi Sì Non è neanche Tonta colpa sua Ragazzi Lui ha fatto Tanti movimenti Rivediamoci la partita Ha fatto Tanti scatti Tanti movimenti Ed è stato Sempre Ignorato Dall'altro lato Quadrato Anche lui Gara imbarazzante Ha sul groppone Il mancato 1-0 Che è un errore Gravissimo Per un giocatore Di un'esperienza Come quella di Quadrato Tolto quella Il nulla assoluto Non aveva proprio Idea di cosa Doveva fare Praticamente In mezzo al campo Nel secondo tempo Entrato De Sciglio In un cambio Incomprensibile Perché se tu devi Vincere la partita Non metti De Sciglio Per Alexandro A quel punto Ti tiene Alexandro E magari Ti tiene un cambio In più O magari Lo metti dopo De Sciglio Come Giocatore di spinta In più Sulla fascia Ma mettere De Sciglio A fine di nuovo tempo È una bella Bocciatura Per Alexandro E attenzione A Juventus Roma Perché io Non escluderei De Sciglio Dal primo minuto Contro la Roma De Sciglio È stato Bravino Ha fatto qualcosina In più Rispetto ad Alexandro Ma stiamo parlando Sempre di poca roba Ma almeno Le diagonali difensive Le ha fatte bene Cosa che Alexandro Non ha fatto Perché l'occasione Di Leris È colpa sua E di Bremer Quindi Nel primo tempo Dove per infare il miracolo Però Ha sbagliato anche lui Le diagonali Nel secondo tempo De Sciglio Non ha mai sbagliato Un intervento difensivo E già quello Basta e avanza Miretti È stato il migliore In campo Perché è entrato E ha fatto Praticamente Tutto quello Che non ha mai fatto Nessuno Nel corso della gara Per quanto riguarda La Juventus Rovella Rovella Io non capisco Perché Impiegarlo così poco Davanti alla difesa Questo è un ragazzo Veramente Forte È un regista Con la R Maiuscola Io lo continuo a ripetere Non serve Paredes Non serve Paredes Puntiamo Su Rovella Che è un giocatore Che ha una personalità Mostruosa Ed è Tra i tre giovani Fagioli Mirette E Rovella A proposito Fagioli Ennesima bocciatura Non ha giocato E non escludo per lui L'opzione prestito Attenzione Perché potremmo privarci Di fagioli E non di altri giocatori Quindi sempre Su quel discorso Legato alla qualità Fagioli via E magari Zaccaria Arthur Rabiot Vengono confermati Perché magari O invendibili O vengono confermati Perché piacciono All'allenatore Non riesco a capire Perché McKennie Si E fagioli no Cosa può fare Fagioli di peggio Rispetto a McKennie Io non ho proprio idea Come si fa A non schierare Fagioli Al posto di McKennie Faccio un esempio Però Rovella È quello che Veramente mi è piaciuto Di più Tra i tre centracampisti Lo vedo Quello più forte Attenzione Su questo ragazzo Non facciamo L'errore Di darlo in prestito Questo è veramente Forte Questo è veramente Forte Non che Miretti Sia scarso Altro 2003 Di una qualità Clamorosa Clamorosa Quindi veramente Non riesco a capire Perché non si punta Su questi ragazzi Ken Ken è entrato Ha giocato sull'esterno In grande confusione Allegri Prima lo mette a destra Poi lo mette a sinistra E nel momento in cui Veramente Ha ritrovato la sua posizione Ken ha fatto Una giocata interessantissima Appunto L'uomo sull'esterno Rientra Cross per Kostic Dall'altro lato Ma perché dobbiamo Vederla solo una volta Questa giocata In 90 minuti Perché non Ken dal primo minuto Perché non Ken prima Quando vedi che è quadrato È nettamente Il peggiore Lì davanti Quindi tante domande Veramente tante domande A cui non riesco a rispondere Vi rimando ai prossimi video Sulla Juventus Perché questa settimana Qui sarà ricca Di appuntamenti Sulla Juventus Un po' perché dobbiamo Analizzare il nostro percorso Un po' perché dobbiamo Fare alcune valutazioni Di mercato E un po' perché dobbiamo Fare alcune valutazioni Sulla rosa Della Juventus Avviciniamoci a questo Juventus Roma Con dei video Vi prometto Video interessanti Sulla questione Juventus Abbiamo ancora Tanto Tanto Da esaminare insieme Ragazzi Questo è il mio commento Su San Piuve 0 a 0 Mettere like Se questo video Vi è piaciuto Iscrivetevi a questo canale Se non fate perdere Nessun aggiornamento Sui miei video futuri Ragazzi Vi saluto Ciao a tutti Da domenica versa Ciao a tutti raga